Buonasera a tutti. Sperai la parola a Lisa Fontana. Questo è il primo appuntamento dedicato ai foodblogger. Io direi di incominciare a presentare i tre finalisti. Il blog si chiama Cinque Quarti d'Arancia, ho deciso di partecipare per mettermi alla prova. Vieni Mirko! Sono delle mini lasagne cupcakes fatte con rago di mare. Ho voluto partecipare a questo contest per mettermi per la prima volta in gioco. Grazie a tutti. And the winner is Mirko Di Marcello. Un abbraccio a tutti e ci vediamo per il prossimo show cooking. Grazie a tutti.